Alessandro, te che hai costruito, realizzato proprio come uno scienziato il tuo satellite e l'hai mandato nell'orbita con SpaceX, quali sono tre consigli che vorresti dare a tutti i giovani che sentono quello spirito di innovazione ma non parlo? Beh, allora intanto fiducia in se stessi in primis, qualunque cosa, perché può succedere veramente di tutto è un periodo che per me sta attraversando fasi di cambiamento sempre più repentini, quindi bisogna rimanere salvi due, sicuro, bisogna formarsi e continuare a formarsi perché non è che uno esce dall'università stop, inizia poi tre, per scegliere l'investitore giusto, il fondo corretto e anche quindi il carburante corretto usare sempre l'etica, l'etica in prima di tutto